maggiore che rimasano della medicina per l'anima vi ricordo sempre il nuovissimo libro orchidee storie e personaggi e quarta edizione 572 pagine di orchidee lo potete trovare qui l'orchideria o su amazon.it allora le promenie usate adesso abbiamo parecchie promenie usate da vendere sono così o anche solo gialle e adesso cominciano a bottonare ne abbiamo un casino che cominciano a fare vedete con un sacco di boccioli questa è la misura più piccola che viene 18 euro e questa è quella più grande che viene 24 se no le abbiamo in baso abbastanza grandi che costano 15 euro se vi interessano abbiamo abbiamo anche tanti pianardi pianardi ancora in boccia avete bocciolati adesso qui cominciano a fiorire vedete c'è tanti ancora con i boccioli e qui ne abbiamo diverse misure e adesso sono tutte piene di boccioli siamo in attesa che fioriscono allora il pianardi ormai sapete tutti com'è e molto interessante perché ogni stagione diverso praticamente d'estate fa delle bellissime foglie tutto bello verde e poi d'inverno in autunno quando le foglie cominci a diventare brutte non si bagna più perde tutte le foglie queste non le aprite tutte perché in natura hanno smarcata stagione secca questo viene tutto sudest asiatico proprio tutto è molto diffuso tutto sudest asiatico e quando la stagione secca perde le foglie per cui in autunno quando qualche foglia cominci a diventare brutto non si bagna più tutte le foglie cadranno resta di inverno che i rami nudi senza niente in questo caso è stato qualche foglie come vedete qui c'è proprio spogli e adesso si riempiono di boccioli e poi di fiori finiti i fiori ricomincerà la nuova vegetazione con le foglie praticamente ogni stagione è una pianta completamente diversa ha un ambiente temperato fresco cioè l'ideale avere temperature rotturne d'inverno intorno ai 10 15 gradi di notte d'estate la pianta piuttosto d'ombra ed inverno invece tutta la luce possibile con la poca luce che c'è una buona regola c'è una buona regola una cosa molto grosso lana così per rendersi conto se una pianta ha bisogno di tanta luce poca luce e vedere la superficie fogliare se la pianta tanta superficie fogliare è una pianta da ombra perché serve tanta po tanto superficie per catturare la luce sufficiente per fare la fotosintesi mentre la pianta che vive con tantissimo luce basta poca superficie fogliare per avere la luce sufficiente questi qui d'estate hanno notevole luce superficie fogliare per cui d'estate la pianta d'ombra durante l'anno si bagna normalmente quando il vaso è leggero d'inverno appunto non va bagnata quando appunto la stagione del riposo si concivano normalmente come tutte le altre orchidee da adesso in avanti col 30 10 10 alternato nel tratto di calcio il resto dell'anno con 20 20 20 nel tratto nel tratto di calcio quando imbocciano così va bene anche il 10 30 20 che lo stimolo aiuto a fiorire meglio cioè con 10 30 20 e vengono le una fioritura più ricca con fiori più grandi più colorati e utili anche per la radicazione perché dato fogliarmente spruzzato sulle foglie stimola radicazione ok il drendromio pienardi una orchidea diffusissima in tutto giudastasiatico diffusissima che tra tutti gli appassionati di orchidee che ormai diventata popolissima è una piatta di verso gli stagioni ok a domani